Cora Da Borgata a Fidene, Roma è un'astrazione, un percorso di autobus lamiere, luci che si avvicinano, promesse, futuro. Vinicio Marchioni, uno dei più bravi attori italiani, è nato lì, a Roma, dove Roma, come direbbe De Gregori, è così vicina e così lontana. Questa è la sua storia e la racconta a Dicono di Te. Io sono Marco Pagani e questo è Dicono di Te, un podcast prodotto da Cora Media e Tender Stories. Allora, Vinicio Marchioni dice che per fare l'attore, per essere attore, servono tre cose. Avere l'orrore di se stessi, avere il senso della morte e avere la vergogna della presenza. Sì, in realtà non l'ho detto io, l'ha detto un vecchio attore, credo friulano, Virgilio Zernitz, se non sbaglio, e sono molto d'accordo con lui. Perché queste tre cose messe insieme, secondo me, come dire, ci permettono a chi ha queste tre cose, e io credo di averle, diciamo, di avere una necessità. Oltre a quella di mettersi in scena con il proprio ego, che non ne può fregare niente, credo, a nessuno. Però queste tre cose permettono di costruire meglio una maschera, permettono meglio di approfondire dei temi, permettono meglio di farsi tramite di qualcosa che è immensamente più grande di noi, proprio perché abbiamo queste tre cose. E per questi motivi sono molto d'accordo con queste cose. Nei primi anni di teatro ero di una pesantezza insopportabile. Sì, che palle. L'hai detto tu, lì, te stesso. Sì, 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 che palle, ripensando a quell'attore lì. Ma perché sai, quando cresci facendo teatro, hai sempre l'impressione che le prove che stai facendo siano il centro del mondo, l'ombelico del mondo, che quei temi che stai affrontando, soltanto tu e la tua compagnia li state toccando. Quindi c'è tutto un modo giovanilistico, se vuoi, che è anche normale che ci sia e che sia così, insomma. Però per cui esci da lì e hai il tuo maglioncino con il collo alto e il mondo va tutto schifo tranne te, insomma. E questa cosa fa parte di una mitologia, anche se vuoi, no? Anche un po' romantica dell'inizio, insomma. Però sì, ero di una pesantezza mortale, perché ancora non avevo capito che bisognasse giocare. Ecco, questa è una cosa che ho appresa un pochino dopo. Prima hai parlato di ego. Quanta rilevanza ha nella vita di un attore l'ego? Guarda, è una domanda che mi faccio costantemente, perché io ammiro molto, devo dire, ed invidio, anche con un'invidia ovviamente positiva, insomma, quegli attori che sono degli schiacciasassi, in qualche modo, con il proprio ego, con la propria grande personalità, che qualsiasi proposta gli arrivi dicono sempre ricordati che ti sto facendo una cortesia. In questo senso, dicono, quell'ego lì, quell'ego che è più grande e che lo fanno pesare in qualche modo, che mettono sempre gli altri in un secondo piano, li mettono sempre più giù rispetto a loro. Io questa cosa non ce l'ho, non ce l'ho mai avuta e per questo li invidio un po', perché penso che un po' più di cazzimma da questo punto di vista forse, boh, avrebbe aiutato. Poi mi dico che non posso essere altro rispetto a quello che sono e quindi chi se ne frega, insomma. Ma tu hai capito chi sei? No, non lo so. Ho capito forse quello che non voglio essere. Uno di quegli attori che mettono in secondo piano gli altri, sicuramente. Uno che non vuole fare le cose pretaporterie, diciamo, le cose che si consumano immediatamente. Chi sono non lo so, lo dicono tutto quello che mi circonda. Sono un padre, sono un marito, sono un attore, sono un regista di teatro, sono tantissime cose. Credo di... boh, sullo stato di Instagram ci ho scritto che sono ciclotimico. Questo lo sono davvero, quindi questo lo so. Senti, diceva James Dean che capire il significato della vita è il compito dell'attore, interpretare il suo problema ed esprimere la sua missione. Eh, perché era uno dei più grandi di tutti i tempi, diceva queste cose. Ma diceva anche che non c'è nessuno più solo al mondo dell'attore. Era uno dei più grandi anche per questo, sì. Credo che il mestiere dell'attore sia il mestiere che si fa veramente più da soli del mondo. Nonostante sia un mestiere che si fa insieme agli altri, in ascolto degli altri, in squadra, quando si fa teatro, anche quando su un set, insomma, ed è straordinario recitare insieme agli altri. Però anche quando sta insieme agli altri, essendo il mestiere dei paradossi, si sta contemporaneamente anche molto da soli. Alcune cose un attore non le potrà mai condividere con nessun altro se non con se stesso e nessuno lo capirà mai fino in fondo. Alcuni passaggi, alcune cose, alcune crisi, alcuni istanti prima del ciak o durante il ciak. Insomma, è un mestiere talmente misterioso, è talmente difficile, è talmente meraviglioso, naturalmente, però credo che sia un mestiere che si faccia veramente da soli. Anna Magnani diceva che aveva capito, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno, che voleva diventare attrice nella culla. Tu quando l'hai capito? No, io non l'ho capito nella culla, e infatti Anna Magnani è Anna Magnani. Non lo so, forse l'ho capito alle superiori quando sono salito sul palcoscenico per la prima volta, mettendo in scena con un nostro professore di storia, di lettere, l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, perché lì sopra non mi impicciavo quando parlavo. Cioè, lì sopra automaticamente avevo messo in moto, ma non perché ci avessi pensato, avessi fatto uno studio sul testo. Automaticamente mi era venuto di respirare meglio. Mi ricordo proprio la sensazione di un respiro più fluido, prima che una parola più fluida. Quando tu dici non mi impicciavo, intendi dire... La balbuzia. La balbuzia, esattamente. Quando è che ti sei accorto per la prima volta di essere balbuziente? Io ero convinto di balbettare sin dalla nascita, diciamo, sin dalla prima parola. In realtà poi mia madre, dieci anni fa, forse mi ha detto no, tu hai cominciato a balbettare verso i cinque, sei anni. Prima non balbettavi. E che mi ha creato uno shock questa cosa, perché dico, cazzo, allora ci sono stati due anni, perlomeno due o tre anni, in cui ero fluido da quel punto di vista. Però poi analizzando, studiando tantissimo, perché chiaramente in questi 48 anni di vita è stata un'ossessione, lo è ancora, come dire, il trattamento, il funzionamento di tutta la parola. Ho capito che tra i cinque e i sei anni, e c'è proprio una fase molto critica dello sviluppo del nostro linguaggio, in cui forse si è inceppato qualche cosa lì e non si è risistemato più. Però è un'ossessione positiva nel corso degli anni, e sono riuscito, credo, a trasformarla in un'ossessione positiva, perché veramente mi interrogo tutti i giorni sul grande mistero. Di dove si formano le parole, e in che modo si trasmettono le parole, quanto le parole siano magiche, quanto le parole creino degli incantesimi meravigliosi, e quanto la parola sia il primo grande mezzo di comunicazione attraverso la quale si raccontano tutte le storie del mondo. Penso che un attore sia chiamato a fare essenzialmente questo, raccontiamo delle storie come dei maghi, anche in qualche modo, che fanno credere alle persone, alle altre persone, di essere in un altro luogo, o che noi siamo qualcos'altro rispetto a quello che stiamo raccontando. Ed è una cosa che mi affascina moltissimo, forse è la cosa che mi affascina veramente di più, in tutto il mio lavoro, in tutti i miei ruoli, in tutti i film, gli spettacoli che ho fatto. Il trattamento del parola, perché poi sono cresciuto teatralmente nel teatro classico, in cui ti insegnano che perlomeno sul palcoscenico è essenzialmente la parola. Sopravvivere lì sopra e comunicare con il pubblico, tutto questo deve passare attraverso la parola, perché non hai il primo piano della macchina da presa, chiaramente. Gli occhi di un attore su un palcoscenico non si vedono dalla seconda, terza fila in poi. E quindi tutto quello che deve passare, emozionare, commuovere, far riflettere, far ridere il pubblico, passa attraverso la parola. E questo è un insegnamento gigantesco sul quale, penso, un attore può anche riflettere per tutta la vita. Senti, i bambini sono feroci, cattivi, urticanti, lapidari, ti prendevano in giro per la balbuzia? Guarda, sì, però neanche in un modo troppo traumatico, perlomeno mi ricordo, nel senso che avevo anche un buon amico vicino, era il mio compagno di scuola, che era enorme, il ciccio, lo chiamavamo, e quindi eravamo i due più sfigati della classe. Però ci sostenevamo vicendevolmente e contemporaneamente però facevamo parte anche del gruppo dei fighi, diciamo, non facevamo parte del gruppo degli sfigati della classe. Non eravate franti e garrone, però forse lui era garrone, insomma. Sì, ma ce ne stavano altri due o tre che venivano proprio schiavizzati, bullizzati e lo facevamo anche noi. Quindi mi ricordo che erano delle prese in giro, ma prese in giro molto cameratesche, in modo simpatico, come in un gruppo e nello stesso gruppo veniva preso in giro qualcun altro per altre cose. Quindi non è mai stato un motivo per me di esclusione dal gruppo, è stato motivo per me invece di grande timidezza, è stato motivo per me di grande impaccio. Io ancora oggi non chiedo che ora è per strada, non chiederò un'indicazione, piuttosto mi perdo, non so come dire, perché ancora mi dispiace guardare la faccia delle persone che si sorprendono e perché riconosco anche la difficoltà degli altri nell'istante in cui si rendono conto che tu ti stai impicciando e non sanno come reagire. Ecco, quel frammento di secondo, quell'espressione mi dispiace per loro, non so come dire, credo che questa cosa li sta mettendo in una difficoltà in cui non sanno uscire, non sanno come comportarsi, non sanno se aiutarti dicendo la parola che tu stai per dire oppure se aspettare. E quindi è un frammento di attimo che nel mio cervello si dilata e diventa un quarto d'ora ed è una rottura di palle incredibile, però anche per questo motivo è sempre stato motivo di grande studio per me nei confronti degli altri, perché mi sono sempre più preoccupato degli altri fondamentalmente che di me. Perché il miracolo e la magia per cui chi non ti conosce, chi non parla con te e ti vede solo sullo schermo del cinema o della televisione o sul palco di un teatro ignora che tu barbetti. Ma perché è stata sempre, voglio dire, nel corso degli anni, per esempio la scuola di teatro, lo studio di tutto l'apparato ortofonatorio, lo studio del diaframma, la consapevolezza corporea, come funzionano proprio dal punto di vista meccanico le corde vocali, come il fiato attraversa le corde vocali e si produce tecnicamente la parola, tutto questo, tutta questa conoscenza e queste consapevolezze mi hanno aiutato moltissimo. E poi credo che mi abbia aiutato moltissimo anche il fatto che questo mestiere mi ha sostenuto dandomi un'identità, cioè il fatto che qualcuno riconosca che tu sei Vinicio Marchioni, un attore, è una cosa che mi ha veramente aiutato tantissimo. Quando io dico questo mestiere mi ha salvato la vita non è una frase così, non è retorica, è proprio così, perché mi ha dato innanzitutto una casa, cioè quando io parlo del luogo teatrale nell'immaginario mio tra significato e significante c'è proprio la casa, è proprio il luogo che io per disastri familiari eccetera non avevo più dal punto di vista ideale. Invece lì dentro in quei tre anni di scuola io ho trovato un luogo dove ero protetto, dove stavo esplorando me stesso in un modo che non avevo mai sperimentato prima, scoprendo delle cose meravigliose di me e tirando fuori tutto un dolore, una sofferenza e una cosa che non avevo mai guardato così tanto da vicino. Quei tre anni per me sono stati fondamentali e poi tutto quello che è successo dopo attraverso le maschere, attraverso i ruoli, attraverso gli studi degli autori, gli spettacoli che mettevo in scena, la conoscenza dei grandi autori, avendo la fortuna di aver messo in scena sempre dei grandissimi autori, continui questo studio straordinario su te stesso e su quello che un essere umano può essere o è nelle sue accezioni più alte, più basse, più dolorose, e lì capisci che i tuoi dolori, le tue mancanze sono quelle di tutti, perché quando studi le coefore, la tragedia greca, piuttosto che Shakespeare, piuttosto che le solitudini del nord Europa con i testi di Ibsen, capisci che quel dolore non è solo tuo, e quel dolore se lo tratti bene, se lo guardi con un po' di compassione, con un po' di tenerezza, il tuo dolore può essere tramite di qualcosa che è più grande e quindi ne prendi anche un po' di giusta distanza, diciamo, perché c'è anche, non mi ricordo che lo diceva, un dolore che è buono e che non c'è bisogno di nasconderlo, non c'è bisogno di far finta che non ci sia o non c'è bisogno che ti mandi in analisi per 15 anni, insomma, ma è utile, può essere molto buono se è un tramite per fare da specchio per il pubblico che in teatro c'è o che verrà a guardare quel film lì e non è più soltanto il tuo, quindi tornando alla domanda iniziale sull'ecocentrismo, non stai parlando del tuo dolore, ma è attraverso il filtro dei tuoi dolori stai mettendo in scena il grande dolore dell'umanità e allora i temi sono più grandi ed in quel senso lì allora tu sei tramite e questa cosa è uno degli aspetti del mio mestiere che adoro di più, che mi fa sentire piccolo, 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 piccolo è utile da questo punto di vista C'è un agglomerato di case alle porte di Roma, poggiate sulle via Salaria, create, tirate su, a volte nottetempo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 la località si chiama Fidene ed è anticipata da un suffisso che riporta Pasolini, riporta a quando le città erano ancora in fieri ed è Borgata, Borgata Fidene, che è il luogo in cui tu sei nato e sei cresciuto Che cos'era Borgata Fidene? Che cosa è stata per te? Borgata Fidene era un... Sarebbe un bellissimo titolo tra l'altro, adesso che lo dici così con questa voce Borgata Fidene era un... sì, un agglomerato di case a due piani, fondamentalmente, di blocchetti di tufo erano tutte costruite con i blocchetti di tufo, senza nessun tipo di altro rivestimento la cortina, solo quelli che avevano un po' più di possibilità economiche le avevano messe, le hanno messe negli anni però mi ricordo proprio da piccolo, 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 c'erano queste costruzioni di blocchetti di tufo che sono state tirate su negli anni appunto 40, 50, 60 da chi arrivava dall'Abruzzo, da Rieti, dalle Marche come tutti quelli che in quegli anni cercavano un po' più di fortuna nella grande città ed era molto distante da Roma noi da piccoli dicevamo andiamo a Roma perché bisognava prendere due autobus o tre autobus non c'era ancora tutto quell'agglomerato che poi si è sviluppato negli anni che ha praticamente riunito da prati fiscali in su, diciamo, fino a Fidene e quindi mi ricordo come se fosse stato un grande paese un grande paese di molte famiglie che si conoscevano tutte tra loro, che si sostenevano mi ricordo che c'erano anche dei criminali mi ricordo che c'era una criminalità di gente che per sopravvivere andava a rubare si facevano le case, si facevano gli appartamenti ma era il tuo vicino di casa e sua madre conosceva tua madre e se c'era bisogno che tua madre non c'era quella donna, la madre di un ladro comunque ti preparava la merenda per la scuola ti dava la maglietta di suo figlio se tu avevi giocato quattro ore per strada ed eri sudato c'erano quelli negli anni 80-90 che si facevano di eroina che per comprarsi la dose rubavano le autoradio che era un grande classico e nella via dove abitavo io si sapeva chi erano erano due o tre che si sapeva e quindi se rubavano l'autoradio di tuo zio mio padre usciva, andava al numero 27 citofonava e l'autoradio ritornava subito indietro però c'era una grande compassione non so come dire c'era un senso non di esclusione e neanche di paura o di terrore rispetto a chi aveva questi problemi come erano questi viaggi in Roma? andiamo a Roma ma io mi ricordo quando aprì il primo McDonald's di Piazza di Spagna che era tipo la cosa più esotica del mondo andare al McDonald's di Piazza di Spagna sembrava andare oggi in Australia non so come dire a Londra di sabato era un viaggio incredibile perché già solo prendere il 235 fino a Piazza Vescovio e poi il 319 da Piazza Vescovio fino a non mi ricordo dove e già quella era un'avventura perché poi era tutto in trasformazioni mi ricordo questi lavori su Via Salaria sotto Piazza Vescovio per costruire questi cavalcavia giganteschi sembrava che si stesse creando la città intorno a te non so come dire poi arrivavi dentro Roma e c'erano i palazzi bianchi questi monumenti straordinari e io dicevo cazzo ora è bella Roma porca miseria era molto non lo so sembrava tutto gigantesco sembrava tutto lontanissimo e quelli che abitavano a Roma erano ma cazzo quello abita a Roma sembrava un altro mondo Marco Giallini ci ha detto che le ragazze che incontrava le feste lui è cresciuto in periferia ed è rimasto poi a vivere in periferia avevano i nomi delle vie consolari Flaminia Aurelia è vero e che lo guardavano un po' come si guardavano i selvaggi da parte di colonialisti fino ad 800 e però al tempo stesso dice ho sempre evitato lì il ricatto del riscatto cioè si parlava di semplicità ma non di povertà non mancava mai il cibo a tavola verissimo confermi confermo alla grande sei cresciuto in un posto simile ma sì 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 non è mai mancato niente anzi c'era una sovrabbondanza di cibo proprio non se ne poteva più ma perché c'era appunto una civiltà contadina ancora perché erano tutti dei contadini che erano partiti e si sono portati dietro quelle tradizioni lì quindi la domenica si facevano le fettuccine e quindi le uova si andavano a prendere da chi aveva le galline era ancora quel mondo lì che sembra che stiamo parlando di 200 anni fa ma in realtà sono 40 anni fa e non è mancato mai niente e neanch'io penso di essere mai caduto nella trappola di voler arrivare a qualcosa altro che fossi io nel senso che non ho mai sofferto di niente fondamentalmente perché poi quando ho fatto l'università cioè io stavo molto bene lì non è che sentivo la necessità di avere la casa in centro a Roma perché se no non mi sentivo più grande di quello che ero non so come dire e non ho mai trovato nessuno poi tra l'altro che mi abbia fatto sentire escluso anche da questo punto di vista qui mi sono reso conto di avere più fame di altri non so come dire mi sono reso conto che c'erano molti attori attrici allievi miei colleghi durante i tre anni di scuola che però si potevano permettere di stare in una casa a Rione Monti perché gliela affittava il proprio padre e però si vedeva che non avevano la fame che avevo io non so come dire cioè io comunque prendevo il trenino metropolitano fino alla stazione di Burtina dalla stazione di Burtina prendevo la metro e poi facevo un chilometro tutte le mattine e scrivevo dei grandi ari in tutti questi viaggi che duravano due ore e riflettevo su tante cose e mi rendevo conto che chi invece c'aveva la casetta ed erano in due o tre e non si preoccupavano della spesa arrivavano freschi freschi due minuti prima della lezione perché abitavano lì sopra dopo la loro bella colazione al bar mi sentivo diverso da loro ma non perché mi sentissi inferiore o superiore per qualsiasi motivo diverso da loro perché io avevo più fame di loro che non so da dove venisse questa fame in realtà perché non è che forse era la fame di trovare casa non so come dire continuo su questo punto che poi trovi in un vicolo di Trastevere no? sì sì cioè casa metaforica insomma l'uomo in cui insegnano il teatro sì l'ho trovata lì ma l'ho trovata veramente in tutti i teatri dove sono stato cioè io quando entro oggi a distanza di 25 anni dal mio diploma sto meravigliosamente tuo papà era segretario personale di Evintore Fanfani e poi acquistò un camion e cominciò a girare per l'Italia per l'Europa facendo l'autotrasportatore volevo chiederti se questa storia è vera è verissima c'è una storia nella storia perché il responsabile del personale del senato era il padre di Fabrizio Gifuni certo che poi divenne segretario generale a Corinare esatto e quest'uomo enorme gigantesco Gaetano credo che si chiami Gaetano Gaetano Gifuni nel momento in cui mio padre evidentemente ha combinato qualcosa di strano lì dentro e presentò le dimissioni mio padre Gifuni chiamò mia madre di sera me lo ricordo questa telefonata è indimenticabile nella mia memoria chiamò mia madre la sera dicendole signora non so cosa sia successo realmente ma io finché non me lo dice lei queste dimissioni non le firmerò mai perché nessun uomo lascerebbe un posto come quello di suo marito con due figli da crescere e mio padre tanto ha fatto tanto ha detto che invece quelle dimissioni le ha fatte firmare e ha lasciato quel posto lì comprandosi un camion forse per essere un uomo libero non lo so ero troppo piccolo e andò via da lì e iniziò a fare l'autotrasportatore io ero presente quando mio padre comprò questo camion e firmava le cambiali davanti a me c'erano ancora le cambiali proprio enormi e poi questo camion andò a fuoco e mio padre intanto si era già ci aveva già questa malattia che se l'è poi portato via e da lì sono cominciati anni atroci di debiti lasciati da mio padre per quelle famose cambiali e per altre cose che poi sono uscite fuori anno dopo anno quelli che tu chiami disastri familiari disastri familiari sì quanti anni avevi quando è morto tuo padre 15 15 hai mai saputo perché si rimise? no no veramente no no e non hai mai avuto la curiosità di chiederlo tua madre sì mia madre c'ha la sua idea naturalmente però c'era la fortuna di aver letto tanti libri dopo un po' di anni e che rifacendomi a quello che diceva Gabriel García Marquez è che esistono due verità quella vera vera e quella che si racconta e poi magari ne esiste una terza che è quella che non si dice esatto non si cerca però penso che abbia combinato dei casini sicuramente però poi penso anche che essendo stato un uomo che ha veramente sempre lavorato ma veramente sempre significa da sei anni da quando aveva sei anni penso anche che forse o mi piace pensare che avendo scoperto questa malattia abbia detto senti ma andate a fanculo tutti io voglio un po' d'aria e basta non lo so gli è voluto bene? diciamo con gli anni con gli anni c'è stato bisogno di perdonarlo? c'è stato bisogno di perdonarlo e c'è stato bisogno di non accollare a lui tutte le colpe della mia vita perché c'è stato un lungo periodo in cui mi rifugiavo benissimo dietro a questa storia strappalacrime diciamo e quindi se non riuscivo a fare qualcosa era colpa sua se non riuscivo a trovare un rapporto di coppia sano era colpa sua qualsiasi cosa era colpa sua e invece a un certo punto della vita devi assumerti anche le tue di colpe insomma assumerti il fatto che la vita è tua e al di là di quello che fanno i padri o le madri le scelte sono le tue la personalità è tua i sì e i no sono i tuoi e le responsabilità sono le tue di tutte le cose che fai e quindi però per fare tutto questo c'è stato bisogno dai 15 fino ai 25 28 anni insomma più o meno è un lunghissimo percorso lunghissimo percorso e di quegli anni lì io ho proprio dei buchi per esempio ma proprio dei buchi che non mi ricordo che cosa è successo cioè delle rimozioni volontarie volontarie non lo so ma non mi ricordo non mi ricordo di avere fatto cose ogni tanto rincontro delle persone che mi dicono ma sai noi abbiamo fatto quella cosa io non mi ricordo assolutamente niente ci stanno proprio dei periodi di cui non ho mi ricordo gli anni dell'università sicuramente la scuola di teatro eccetera però delle parti proprio non ho memoria assolutamente ho sempre pensato anche di fare un'analisi sai di quelle del con l'ipnosi per ritornare lì però mi sono detto ma anche no ma perché cioè se ne avrò la necessità lo farò però forse alcune cose quando si risistemano bene o male insomma non lo so però va anche bene così insomma e poi sto scrivendo questa storia qua nel senso che adesso ha 48 anni siccome i miei figli non sanno niente di questo nonno non l'hanno mai visto e non hanno mai visto nemmeno nessuno della famiglia Marchioni perché da quegli anni lì ho chiuso con tutti quanti nel bene e nel male non sanno nulla e quindi questa cosa ogni tanto mi manca il fatto che loro non abbiano un pezzo di muro diciamo di questa ideale famiglia che siamo e quindi sto cercando di scriverlo per poterlo raccontare anche lì ovviamente farcito condito non penso che a nessuno possa interessare soltanto questa storia qui però la motivazione principale è quella di fargli conoscere chi è stato Claudio insomma senti però per esempio tra una rimozione e i buchi della memoria ti ricordi molto bene di un momento di violenza tra tuo padre e tuo nono ti ho detto che la violenza l'hai sfiorata però quella scena ti è rimasta addosso cioè due uomini adulti grandi che si picchiano eh sì ma poi un padre e un figlio che è una cosa poi ero piccolissimo davvero forse avrò avuto dieci anni quando è successa quella cosa lì non lo so però vedere quegli orsi è un'immagine che c'era due orsi che si gonfiano non so come che si mettono proprio le mani addosso ma per farsi male era questa la cosa che perché sai mettersi una mano addosso darsi una spinta un attimo di nervosismo male fra due uomini ci puoi postare insomma però era proprio la violenza nel voler fare male non so come dire questa cosa tra un padre e un figlio io ancora oggi veramente quando devo prendere da qualche parte il seme della violenza l'ho vista lì per la prima volta io la violenza quella che non ha un nome che non ha una spiegazione che può arrivare a delle conseguenze atroci ed è stato da una parte sono contento anche di averla vista sempre con il senno di poi perché ho saputo dare un nome a questa cosa e ogni volta che l'ho sentita dentro di me poi ecco questo è il lato negativo magari che sento nei miei confronti io non ho mai fatto a cazzotti mai io se c'è un qualsiasi diverbio sono quello che cerca di mettere pace sono quello che dice ok hai ragione tu va benissimo così però questo provoca anche dei grandi mal di stomaco naturalmente perché nella vita c'è anche bisogno ogni tanto di un sano vaffanculo quando si ha la motivazione diciamo reprimere fa male reprimere fa malissimo però evidentemente quella scena lì mi ha messo addosso un filtro gigantesco rispetto alla violenza e meno male che ho iniziato a fare prepugilistica box eccetera perché la sfogo lì quella roba lì è felice che sia re o contadino colui che trova pace in casa sua Wolfgang Goethe Goethe sì non c'era pace a casa tua non ce n'era tanta ma per un periodo no nel senso che comunque mio padre ha iniziato a fare dentro e fuori casa io mi ricordo a sette anni ho scritto un tema che era tra anche i ricchi piangono e non lo so i dolori del giovane Werther lo sturm und drang melodramma quello proprio strappa lacrime tant'è vero che la maestra mi ricordo chiamò mia madre e disse signora ma va tutto bene perché poi ho sempre condito vedi poi com'è straordinaria la vita l'istinto di sopravvivenza che è più forte di tutto io ho sempre condito tutto quanto con una grande fantasia cioè mi sono sempre rifugiato nella fantasia e quindi questi temi in cui dicevo non mi ricordo esattamente cosa che rivessi però sicuramente ci avrò messo dentro qualcosa di vero di mio padre che se n'era andato che era tornato che se ne stava andando di mia madre che stava da sola bla 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 però condivo tutto con dei racconti cioè sono sempre partito per la tangente non so come dire questo mondo fantastico evidentemente mi ha protetto un po' tua madre un'immagine di tua madre una donna dolce una donna dolcissima con uno spirito di sopportazione totale ma non per quello che è successo solo con mio padre insomma che crescere due figli negli anni 80 90 da sola a Borgata Fidene con 130 milioni di debiti delle vecchie lire non deve essere stato semplicissimo però sempre con il sorriso non so come dire sempre preoccupata solo del fatto di proteggere la parte buona dell'universo non so come dire non ci ha mai fatto non si è mai incattivita lei e non ha mai fatto incattivire noi e penso che questa sia stata la più grande cosa che abbia potuto fare insomma è detto che ogni tanto si affaccia la sindrome dell'impostore cioè che tu hai paura nonostante abbia fatto tantissimo teatro ronconi anche alcuni grandi successi al teatro visto che si dice che la gente non va al teatro ma in realtà è falso l'ultimo Virginia Woolf molto cinema bello da 20 segretti in assiria l'asticità di Paolo Virzi sarai nel prossimo film di Paolo Virzi con un ruolo importante tantissime altre cose nonostante questo ogni tanto pensi qualcuno mi dirà non sei in grado che ci fai tu qua ma sì ma sai perché perché io ho sempre avuto ma sempre continuo ad averla sempre questa cosa ci ripetetevo l'altro giorno è come se io ogni cosa che ho fatto sul set in teatro durante le conferenze stampe al festival di Venezia al festival di Roma nei grandi eventi è come se io avessi cioè io sono quello vestito no? vestito bene per la presentazione del film che ormai negli anni ha acquisito un po' di sicurezza di esperienza per come ci si deve muovere eccetera e accanto a me c'è un altro me che guarda tutto dall'esterno che è vestito normale che è stata lì casualmente e che guarda tutto quello che succede da fuori e che dice beh mazza che figata qui però bello quante luci stanno qui ma chi sono tutti questi perché stanno qui questi cioè c'è sempre stato un altro me che ha guardato tutto quello che è successo fino adesso e continua a guardarlo come se fosse una specie di turista che sta lì e dice beh però che figata che bello ma come funziona qui e questa è una parte e poi c'è un'altra parte di me che dice sì qualcuno prima o poi come diceva Federico Fellini si accorgerà che non sono capace cioè perché io ci provo ci provo tanto ci provo tanto con l'esperienza acquisita con una tecnica acquisita ci provo e ritornando all'ego ritornando a quel discorso che facevamo prima se vuoi però ci provo e sento che non ci riesco mai fino in fondo forse perché i miei non lo so gli obiettivi non gli obiettivi forse c'ho un livello talmente alto di esempio di cose che ho visto fare ad altri grandissimi attori che mi sembrano inarrivabili e poi la terza cosa che si lega tantissimo c'ho 48 anni Robert De Niro a 48 anni aveva già scritto la storia del cinema con almeno 6 film 7-8 film inarrivabili un senso dell'attività dici tu eh io c'ho 48 anni ho fatto delle cose belle sicuramente in Italia qualche film buono che rimarrà credo l'ho fatto però insomma stiamo tranquilli tutti nel senso che la storia del cinema è un'altra cosa e io faccio questo mestiere perché sono un amante della storia del cinema sono un amante di questo mestiere sono un amante della storia del teatro e ho studiato i grandi attori e le grandi attrici e io non sono come loro forse i tempi sono cambiati la fortuna mille cose per carità però c'è una parte di me che dice ok il grande ruolo ancora non è arrivato forse meritavo qualcosa di più forse sì però con calma con estrema calma e comunque nonostante il teatro con Ronconi l'esordio con premio Biraghi a Venezia per 20 sigarette a Nasseria il cinema che poi è arrivato dopo dopo il successo con Romanzo criminale di Stefano Solli nel 2008 il tanto cinema di qualità la prima volta che il successo si affaccia sulla porta per mezzo di cartelloni giganteschi hollywoodiani col tuo volto con la tua faccia per Roma a te viene un piccolo moto di rivalsa dici ma io esistevo anche prima di questo prende un testo di Dino Campana comincia a girare per i teatri piccoli per le città di provincia e in qualche modo a questo successo volte le spalle sì perché ne ho sempre avuto molta paura cioè io ho molta paura del successo quello che ti mangia la vita e ce l'ho sempre avuta questa cosa qui non so perché da dove mi viene non lo so però quando ho visto quella gigantografia enorme sul palazzo di Sky che stava proprio sotto casa di mia madre su via Salaria quando gli uffici di Sky stavano lì in quegli anni io ho detto mio Dio ma che cosa sta succedendo e da una parte ovviamente c'era una soddisfazione perché finalmente dopo dieci anni che facevo la gavetta le cantinelle nei teatrini o Luca Ronconi al piccolo di Milano al centro di Santa Cristina eccetera però quella roba lì è una roba che da qualche parte tutti si sogna no però quando è arrivata poi è stato uno tsunami davvero perché tu vai al bar la sera prima della messa in onda del primo episodio di Romanzo Illuminale e quello che ti ha visto crescere che ti ha chiamato per nome sa perfettamente chi sei da dove vieni eccetera eccetera la mattina dopo la messa in onda ti chiama con il nome di quel personaggio lì e lì ho detto no c'è qualcosa che non quadra in cui questa storia e allora mi sono chiuso in quel teatrino mi sono scritto il monologo sulla vita di Dino Campana e ho ricominciato dall'amore vero dall'amore perché ogni tanto ho sempre bisogno di ricordarmi perché ho incominciato ho bisogno di rinnamorarmi ho bisogno di togliere quell'erba gramigna che cresce su chiunque abbia la fortuna di fare questo mestiere insomma e quella è stata la cosa migliore che abbia fatto insomma perché poi l'estate dopo ho girato 20 sigarette l'anno dopo stavo al festival di Venezia e poi abbiamo girato la seconda serie e poi è arrivata Milena Mancini per caso una bionda che mi ha folgorato ho sentito la necessità di tornare dentro quelle mura che mi proteggevano forse è così senti il proposito di mura prima l'hai citato ma non siamo andati in profondità il professore di lettere che avevi a scuola è stato molto importante al liceo un giorno entra recita Paolo e Francesca e si commuove che succede in quel momento lì? cosa dicono i compagni? qual è la tua reazione? i compagni hanno iniziato a ridere per prenderlo in giro perché chiaramente stiamo parlando una classe di deficienti come la maggior parte la frase esatta è guarda soffrocio sì più o meno è stata quella che cazzo sa fa questo ma che si è messa a piagna e soffrocio io invece mi ricordo che non sapevo come rapportarmi con questa cosa nel senso guardavo quest'uomo che era obiettivamente un uomo di un'intelligenza di una con una voce straordinaria perché poi aveva fatto il primo anno di accademia Silvio D'Amico nella stessa classe di Giancarlo Giannini quindi con il sogno di fare l'attore e invece poi sua madre l'ha costretto a fare invece la carriera da insegnante quindi non ha proseguito quella roba lì però quel germe evidentemente gli era rimasto dentro e io questo ovviamente l'ho scoperto dopo negli altri due anni che abbiamo fatto insieme a lui e quando iniziò a piangere io mi ricordo come se il tempo si fosse fermato per me perché stavo lì e dicevo ma cioè questo è un uomo di 60 anni ma perché piange che cosa gli sta succedendo dentro e questa cosa poi facendo l'attore me ne sono reso conto che cosa gli stava succedendo dentro e ho scoperto essere una cosa meravigliosa cioè quel tipo di commozione che ti scuote quando senti che sei appunto attraversato da un sentimento che arriva non solo a te ma tramite te arriva agli altri probabilmente se non avesse se non si fosse commosso quel giorno io non avrei fatto l'attore arrivo a dire questa cosa perché lì ho visto qualcosa che mi ha incuriosito tantissimo e mi ha fatto arrivare quelle parole soprattutto eccola cioè quelle parole che stava dicendo che per gli altri erano una gran rottura di coglioni io lì ho sentito che non vuol dire aver compreso razionalmente ma ho sentito da qualche parte di che amore stava parlando lui mi è arrivata una valanga enorme che poi per i restanti anni mi ha fatto incuriosire sono andato a leggere altri libri sono andato ad appassionarmi di poesia sono andato a chiedermi che cos'è l'amore e se non si fosse commosso quel giorno forse sarei diventato uno dei tanti periti elettrotecnici in giro per l'Italia non lo so John Keating il professore dell'attimo fuggente diceva incitava a cogliere l'attimo a rendere straordinaria la propria vita e si interrogava anche lui un po' come hai fatto tu sull'amore tu che hai capito dell'amore che risposta ti sei dato ci vorrebbero sette vite per rispondere a questa domanda forse poi arriva nell'insilenzio probabilmente davanti al mare e ubriacarsi forse penso che l'amore sia una promessa di bene nei confronti della vita e nei confronti di noi stessi e nei confronti delle persone che ci circondano una promessa di bene vuol dire qualsiasi cosa che spinge l'essere umano a non cadere nella parte scura del mondo della vita dell'uomo che esiste e c'è non bisogna fare finta che non ci sia è una promessa di bene che ti fa svegliare la mattina e ti fa dire ok lavoriamo per la parte buona del mondo come se fossimo in uno star wars gigantesco diciamo però penso sia questo l'amore fondamentalmente hai detto che dai 16 ai 25 anni oltre ad avere i capelli lunghi e un atteggiamento diciamo pessimista nei confronti della vita la parola costruzione come nelle canzoni di Fossati rispetto all'amore non era prevista non c'era nulla da costruire era tutto ero un egoista compulsivo mie storie duravano un anno mi innamoravo follemente ma in realtà era solo una grande necessità di amore da parte mia mi innamoravo follemente mi trasferivo nelle case di queste povere ragazze tutte con una casa però devo dire che me le sceglievo bene un anno dopo mi innamoravo di qualcun'altra quindi le tradivo e poi andavo via da quella casa mi trasferivo nell'altra casa di quest'altra donna mi ero innamorato e un anno dopo la tradivo con qualcun'altra e ripetevo il ciclo costantemente la serie di romanzo criminale è arrivata in un punto e avevo 32 anni già insomma non ero proprio di primissimo è arrivata in un punto in cui io mi ero veramente stancato di me cioè mi ero stancato di questi cicli costanti mi ero stancato di non riuscire a costruire niente mi ero stancato di questa necessità di amore che non trovava risposta da nessuna parte hai pensato pure abbracciando idealmente uno dei due rami della famiglia quello calabrese di tornare in Calabria e se volete un lavoro sì 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 quello l'avevo pensato due anni prima quando non succedeva assolutamente niente quando da giovane promessa del teatro italiano sulla rampa di lancio con Luca Ronconi tutto bellissimo però cazzo se fai uno spettacolo l'anno non mangi non vivi non fai niente non costruisci niente invece vedevo tutti i miei amici di giù che costruivano cose vere lavoravano davvero c'era una famiglia davvero andavano a fare dei viaggi bellissimi e io no stavo a Fidene e mi ero rotto veramente le scatole e quindi dico senti ma sai che vi dico tutti bellissimi pettinatissimi affascinantissimi ma io mi sa che me ne vado giù a coltivare la mia parte più semplice materica vera e poi invece invece no perché io lo volevo fare l'attore cioè volevo ogni volta che andavo tra i mille mestieri mi ricordo sono andato per anni a fare il cameriere extra in un ristorante di Tivoli e quindi facevo la bretella autostradale da Roma per andare lì e nel fine settimana c'era sempre la coda sempre la fila al casello di quelli che uscivano o di quando rientravano e io con il mio bel scuterino sfigatissimo invece sfrecciavo e li superavo tutti e dicevo guarda io mi sto andando a fare 48 ore di bucio di culo inenarrabile per forse 200 euro che però lavorando 4 fine settimana ogni mese con le mance arrivo a 1000 1100 euro comunque il frigorifero lo tengo pieno e soprattutto sono libero e non sono come voi che state qui in fila e questo pensiero devo dire mi ha veramente sorretto tantissimo tantissimo beh sembra quasi la scena meravigliosa dell'uomo in più di Paolo Sorrentino quando Tony Servillo davanti con l'occhio di bue un microfono dice voi la libertà non sapete manco che cazzo è un po' è vero un po' è vero nel senso che questo mestiere è difficilissimo è il mestiere più difficile del mondo Pisapia si chiamava Pisapia una delle grandezze di Paolo Sorrentino sono i nomi che dai a quei personaggi Tony Pisapia ma che personaggio è uno che si chiama Tony Pisapia è già così è già straordinario Jeff Gambardella che personaggio è anche se non sai niente però ti affascina un gigante e quindi ti dicevo la serie è arrivata e io mi sono reso conto che non ero pronto cioè nel senso se fosse andata benissimo e quindi se fosse stata la svolta non ero pronto se fosse andata malissimo e io sarei dovuto tornare a fare il cameriere sulla bretella anche se prendevo per il culo quelli che stavano in fila lì non ero pronto perché non ce la facevo più e quindi lì ho detto ok fermi tutti devo occuparmi un po' di me evidentemente che non ce la faccio e quindi io ho girato la prima serie mentre stavo in analisi fondamentalmente ed è durata due anni e mezzo ed è stato un viaggione ti è servita? sì mi è servita sicuramente l'immagine che ho è come una libreria ognuno di noi dentro casa ha una libreria dove più a portata di mano ci tieni quei libri che tu pensi siano stati fondamentali per te su in alto ci metti quelli che magari hai letto ma non ti piacciono tanto quelli che vuoi regalare quelli che non leggerai mai più ecco l'immagine che ho è che ho preso quella libreria e l'ho sfasciata completamente l'ho proprio ribaltata ci sono saltato sopra ho buttato sul muro i libri l'ho sfasciati proprio addosso ai muri e con grande 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 cura poi li ho ripresi uno per uno e li ho risistemati in un altro ordine quello che sembrava fondamentale è ritornato ad essere una cosina che stava un po' più su però sono stato in grado di guardare tutto con una grande distanza e ho scoperto delle cose bellissime anche delle cose mi hanno fatto molto male naturalmente però ho riordinato un po' un po' di cose non tutto non lo so però soprattutto sono stato pronto credo ad incontrare una donna davvero per esempio che non è un caso che sia arrivata poi insomma forse però sono stato pronto ecco a non essere più un figlio dentro l'esistenza ma forse sono stato pronto a diventare un padre che ovviamente era il problema secondo me era il grande libro che avevo lì a portata di mano e che stava sempre davanti alla mia faccia nella libreria e che ti rifiutavi di sfogliare completamente invece poi ho scoperto anche delle cose bellissime e ho compreso meglio tante difficoltà anche di questo grande mestiere assurdo che è il padre hai detto che per stare bene devi stare bene con la tua coscienza quando è che invece stai male con la tua coscienza? allora io non sono bravo a prendere le decisioni cioè sono uno di quelli che ci mette due giorni ho bisogno di pensare di riflettere ho bisogno ma questo in tutto anche quando faccio le regie teatrali prima di prendere una decisione su un colore di luce ci penso metto in discussione le idee le devo confrontare ribaltare tutto proprio purtroppo funziona così non sono a posto con la coscienza quando non dico la verità per esempio sono un pessimo attore nella vita sono proprio un pessimo attore nella vita ti scoprono subito quando dicono bugie? devo dire per tanti anni sono stato il campione del mondo proprio il campione del mondo perché ho capito di manzogna? sì gigantesco proprio e ancora sono molto bravo però oggi mi rode dentro non so come dire come se ci fosse un ritratto di Torian Gray della verità senti più sporco? ma come una merda come che non riesco proprio a dormire che hai capito mi sento che mi lavora dentro con troppo dolore rispetto a quanto ero bravo e professionistico fino a qualche anno fa insomma adesso mi fa veramente male 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 e mi rimorde la coscienza in un modo devastante e quindi forse anche l'età che inizi a dire vabbè dai è ora che inizi a dire la verità forse sì e poi sto male quando ho dei dubbi sul mio lavoro sto proprio mi dilanio mi dilanio che non dormo non sono abbastanza bravo da poter lavorare con tutti e quando devo dire dei no siccome appunto c'è sempre un altro Vinicio che sembra un turista per caso vicino a me che dice cazzo ma ti stanno offrendo da lavorare è un lavoro ma perché devi rifiutare un lavoro per come sono cresciuto io è una bestemmia questa cosa rifiutare un lavoro è una cosa che non si fa e c'è questo aspetto però poi c'è anche il fatto che ho capito forse con un po' di ritardo rispetto a questa caratteristica che sto facendo che devi scegliere con grandissima parsimonia i ruoli cosa che ho sempre pensato di fare però oggi ragiono con più saggezza forse o con un po' più di consapevolezza e un po' più anche di disillusione su alcune cose e quindi oggi sono perfettamente consapevole che se non c'è un ruolo scritto per bene se non c'è un regista bravo se non c'è una produzione valida se non c'è tutta una serie di cose non mi posso più permettere di portare via il film e di salvare quello che ho fatto io non so come dire che è successo in alcuni film che tutti mi dicono beh tu bravo il sempre bravo Marchioni però il film non riesce per mille motivi e oggi dire di no è sempre più difficile però questo più che mai penso che sia proprio il periodo proprio questo contingente dei no è proprio il periodo in cui devi stare proprio fermo e aspettare per costruire qualcosa di ancora più solido ecco Venicio Marchioni anche grafomane scrive diari fin da bambino continui con questa continuo al di là del romanzo che mi sembra molto interessante i diari purtroppo non li scrivo più e dico purtroppo perché questo Milena mi prende sempre per il culo io sono talmente malato e ossessionato dalla scrittura che per esempio quando inizio le prove di uno spettacolo io ho il diario di quello spettacolo quando inizio a studiare per un ruolo in un film ho il quaderno del film quando ho un'idea che magari posso sviluppare inizio il quaderno di quell'idea lì quindi il mio studio è pieno di quaderni iniziati che poi finiscono le prove oppure il processo creativo si esaurisce ad un certo punto si va in scena e io quel diario quel quaderno non lo apro più però non lo butti no sono un maniaco compulsivo mi tengo qualsiasi cosa forse sperando che qualcuno dopo la mia morte si mette lì questa idea romantica di gente che si scasserà i coglioni ad aprire tutti i quaderni a cercare di capire che cosa ho fatto di così bello non lo so però sì ho sempre avuto questa cosa i diari ce l'ho tutti quelli che ho scritto conservati in uno scatolone nello studio ho riniziato a scriverne tantissimi e quindi ho 7-8 diari con le prime tre pagine che è anche una metafora della mia vita fondamentalmente se vuoi nel senso che mi piace iniziare le cose poi siccome sono uno che fa veramente tantissime cose ed è attraversato da mille idee mille progetti mille cose che si potrebbero fare mi innamoro di tutto mi accendo come un fiammifero e svampo tutto poi il fiammifero si spegne e si passa al prossimo fiammifero fondamentalmente è questa la mia vita e quindi ho un diarietto per ogni ideuzza che ci ho avuto e forse sono delle ideuzze che rimangono lì però qualcuna sono riuscito a farla anche devo dire senti ma se dovessi proprio in omaggio alla brevità dell'artista e del grafovane se dovessi scrivere un epigrafo su come sei oggi nel 2023 cosa scriveresti di te? guarda è difficilissimo non lo so sono almeno 10 anni che penso all'epitafio da scrivere sulla tomba e non l'ho trovato perché è meglio di quello di Carifano non si può fare non si può fare non esclude il ritorno ma anche quello di Walter Chiari è bellissimo com'è quello di Walter Chiari? è solo sonno arretrato bellissimo bellissimo l'epitafio per come sono adesso non lo so l'epigrafe non l'epitafio l'epigrafe non la so non lo so c'è il finale di una poesia di Ennio Flaiano che riguarda molto quello che cerco di fare con il mio mestiere che è secondo me la più grande definizione del nostro mestiere finisce gli ultimi tre e quattro versi sono il gioco è questo in una stanza buia cercare qualcosa che non c'è e trovarla penso che sia la più grande definizione del nostro mestiere cioè tu entri in una stanza buia devi cercare qualcosa che non c'è e la devi trovare e secondo me mi dispiace che l'abbia scritta lui questa cosa mi sarebbe piaciuta tantissimo scriverla però è Ennio Flaiano e ringraziamo Dio che ce l'abbia mandato a noi dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories io sono Malcom Pagani la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli il producer è Alex Peverengo di Lucrezia Marcelli Grazie.